base c'è qualcuno ehi ti trovi all'oppio sull'isola di sant'andrea vicino rovereto tutto quello che stai osservando è qui grazie a delle donazioni che negli anni hanno contribuito ad ingrandire il patrimonio museale devo mettermi in contatto con la base perché non provi a lasciarti andare invece per ritrovare la bambina che eri questa cosa questa foto risale agli anni della seconda guerra mondiale no io non dovrei essere qui e questo è un potentissimo telescopio che serve per guardare pianeti e stelle pronti c'è un'altra sede del museo il museo della città ma quella dovrai andarla a visitare da sola ragazzi ma dove siete quello che cos'è è il registro delle donazioni di fortunato zeni sai chi è grazie a tutti